ciao e bentornati sull'area tutorial oggi prepareremo delle scatoline a forma di stella porta confetti serviranno del cartoncino colorato colla un paio di forbici e il cartamodello che troverete sempre nella descrizione del video ritagliamo il cartamodello e riportiamolo su cartoncino ritagliamo poi anche questo piccolo specchio e ricalchiamolo su tutti i lati per un lavoro più pulito ho usato uno stecchino e infine il centrale iniziamo a dare forma alla nostra stella partendo dalle punte vanno piegate tutte vedete già ha preso forma e infine la base stessa cosa dall'altra parte si piegano le punte e poi si piega la base e adesso possiamo chiuderla incolliamola partendo dai lati prima uno per questo tipo di lavoro consiglio una colla presa rapida e poi l'altro una volta asciutto inseriamo i nostri confetti e chiudiamo il tutto la nostra scatolina è pronta se vogliamo possiamo anche decorarla avete visto sono facilissimi se avete qualcosa da chiedermi fatelo pure attraverso i commenti ma non dimenticatevi di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi i prossimi video ogni mercoledì ciao ciao